La seduta consigliare a Castel San Giorgio era iniziata con attimi emozionanti. Il sindaco leggeva infatti, senza riuscire a trattenere la commozione, la lettera del dipendente Aldo Gallo, parole toccanti per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini dopo la tragica morte del figlio Renato. Poi invece si è scatenata la bagarre, botta e risposta tra maggioranza e l'opposizione, sul piatto in particolare il nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Qualcuno del pubblico fa la voce grossa, il presidente del Consiglio Giampiero Coppola interviene, momenti di tensione, doverosa la sospensione per calmare gli animi. La seduta poi di parte ha approvato il punto riguardante l'adesione di Rocca Piemonte all'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco, mentre il consigliere Salvatore De Simone, che era passato in maggioranza, ha annunciato il suo ritorno all'opposizione. Ci sono già le manovre pre-elettorali, io non pensavo che si dovesse affrontare una preparazione alla campagna elettorale di due anni. Purtroppo è così, le opposizioni si stanno coagulando, stanno cercando di trovare un'intesa, si incontrano e fanno il loro gioco, compie il loro dovere. Quindi questa mattina è venuto in Consiglio Comunale un atteggiamento di ostruzionissimo palese. Ognuno a parlare, a intervenire, a dire le stesse cose e comunque le regole della democrazia, quando lo permettono, lo permettono. La maggioranza adesso risponde con la fermezza perché non accettando le provocazioni, c'è un po' di fibrillazione quando uno si rende conto che ciò avviene, è decidendo perché la gente vuole che noi adottiamo decisioni, pensiamo alla crisi che c'è, pensiamo alla soluzione dei problemi delle famiglie, al lavoro, alla unione dei comuni per sviluppare sinergie, per attingere ai finanziamenti internazionali, europei, vuol dire, e quindi c'è un momento di grossa attenzione dell'amministrazione e di grossa produzione. Questo sta preoccupando le opposizioni perché non ce n'è per nessuno. E' successo ed è appurabile dal protocollo del 6 giugno che una fattiva collaborazione su argomenti determinati, precisi e delegati hanno generato una poca agibilità dell'azione politica e amministrativa da parte di questa forza politica che aveva inteso nella piena volontà dare un contributo migliorativo al Castel San Giorgio. E ovviamente questo ci ha, e ha negato alla collettività delle opportunità di miglioramento che ci ha imposto una restituzione delle deleghe, ovviamente con rammarico ma con piena convinzione e con piena determinazione. Ecco, adesso come si muoverà nell'ambito del Consiglio Comunale? Perché abbiamo visto anche stamattina un po' di tensione, anche se ovviamente elude dal fatto che la riguarda in prima persona, però come ci si muoverà in Consiglio Comunale? Perché la maggioranza dicono che si sta cominciando già a coagulare la minoranza in vista di una lunga campagna elettorale, quasi a immaginare che fosse già iniziato un momento preelettorale. Io penso che noi dobbiamo pensare a ragionare su ogni singolo argomento per la collettività. Le campagne elettorali troveranno il loro momento al momento opportuno. Adesso c'è bisogno di dare risposte che è quelle che mancano a Castel San Giorgio. Grazie a tutti.